Ehi la, eccoci qua con il nostro Bitcoin Update, partiamo già subito con questo giro di breve, abbiamo fatto tante analisi questo fine settimana, anche il video lungo di un'ora con tutta la ciclica che io vi consiglio di vedere, ho aperto anche una playlist dove ci saranno tutti i video che saranno più specifici sulla ciclica, ovviamente su Bitcoin Update faremo sempre un pizzico di ciclica, però vediamo un aggiornamento magari anche sul breve o analisi tecnica classica. Quello è proprio ciclica pura, adesso quindi se avete visto quel video là, cos'è che andiamo a cercare? Andiamo a cercare un tentativo di ripartenza del mezzo trimestrale, vedete qui ho provato già un lunghetto, sta già andando il primo target, quindi per questo ho aspettato a fare il video, forse me l'ha anche preso, vabbè, vi metto un alert se torniamo giù in maniera terribile, e così controllerò la stazione, però bene o male dal mio punto di vista dovremo essere messi relativamente bene per una ripartenza, il problema è ripartenza fino a dove? Allora, innanzitutto vediamo la luce riflessa, la luce riflessa è questa, cioè vedete, è il Nasdaq che anche qui tra l'altro c'è un lunghetto dentro, adesso sul Telegram facciamo veramente tutto, perché io allora c'è stato un periodo, tempi fa, quando avevo iniziato anche il canale, non ho neanche iniziato da, cioè anche se ci sono dei video di 3-4 anni fa, in realtà lì poi l'avevo abbandonato, seriamente avevo ritornato a fare i video meno di un anno fa, e all'inizio facevo anche i video Nasdaq, Gold, Euro, tutto, e avevo 3, 4, forse 5 visualizzazioni in quei video, facevo Bitcoin Update, invece avevo le visualizzazioni classiche, e quindi poi comunque avevo provato a fare anche un po' di tutti i mercati nel Telegram, eccetera, però poi vedevo che era difficile da gestire, la gente non interessava, eccetera. Adesso io vi dico, per chi è sul Telegram e siete in di più rispetto a tempo fa, che quando ci sono dei periodi di tristezza appalate alla Mariottide, come ho detto l'altra volta, cioè è inutile stare lì a essere fissati con le cripto per forza, bisogna fare altro, perché se non ci danno soddisfazioni è inutile andare in un mercato che non va, perché poi è il mercato delle cripto, Bitcoin già è un colosso, già fa le sue cose e si è già visto, perché sostanzialmente per tutto il 2023 nei fatti, fino alla fine, mettiamo un attimo una roba che è più... mettiamo il classico, uno scarabocchiato, se no non ci capiamo, mettiamo il nostro Bitcoin History qua, che così non è scarabocchiato e possiamo giocare, anzi perché volevo mettere anche il settimanale qui, ecco qua, togliamo un po' di roba, ma vedete qui Bitcoin fa le sue cose ormai quasi più correlate al mercato old, perché questo è il 2023 di Bitcoin, comunque dalla partenza di fine 2022 oppure inizio 2023, come volete dire, fino a qui diciamo, trend comunque rialzista, comunque se uno se lo prendeva, non dico proprio il bottom, facciamo una media di questi prezzi qua, e arrivava alla media di questi prezzi qua, era già più 50%, e invece questo era, prendiamo una total qualsiasi, la total 3, quella senza BNB e Solana, questo invece era il 2023, vedete, fino a qui era ribasso, ma non solo ribasso, lateralità insulsa, non si può lavorare in un mercato che lo lavori per farti questi movimenti qua, e lo lavori quando è così, cioè lo devi proprio abbandonare, qual è il senso? Cioè nel senso non è che lo abbandoni, nel senso che non lo guardi più, poi ti svegli e sei qua, ah aspetta che compro, lo segui, Bitcoin Update si segue ogni giorno, anche Bitcoin stesso tra l'altro è molto insipido ultimamente, però è inutile che vai a sforzare dei trade in un mercato che non ti dà quello che ti deve dare, perché il mercato delle altcoin e di Bitcoin sono mercati che devono darti il pump, devono darti il long, guarda raramente se ti trovi in queste situazioni qua proverai anche degli short, però non è lì che fai i veri soldi, fai prendendo i bottom e to the moon, ma se non arrivano i to the moon, cioè non è che puoi stare lì nove mesi a fare un cazzo, bisogna andare sui mercati che c'è sempre qualcosa, sempre, quindi adesso io ho preparato non solo il Forex come ho detto, ma anche tanti altri mercati e via, abbiamo dentro un long su Tesla, un long sul Nasdaq, perché mi sto preparando all'eventualità che andiamo in depressione, e adesso se avete seguito il video del fine settimana sulla ciclica, mi seguirete meglio, quindi mi consiglio di andarlo a vedere, ma qual è la situazione che abbiamo adesso? Adesso mettiamo 4 ore e prendiamo il nostro CME, anzi invece del CME visto che è tutto scarabocchiato, visto che adesso abbiamo dei punti specifici, prendiamo il micro futures che non l'ho scarabocchiato tanto, cioè a parte le robe che avevo fatto il fine settimana, no? Vedete qui, senza stare lì a stare a fare tante grandi analisi, abbiamo il nostro trimestrale chiuso qui, tutto abbastanza evidente, abbiamo più o meno il top di un trimestrale inverso qui, adesso qui il punto è quello che ho detto nel fin settimana scorso, questo è il top del trimestrale inverso, o no? Potrebbe assolutamente esserlo, oppure ti fa un nuovo tentativo, visto che se prendiamo il classico, vabbè, prendiamo il nostro giornaliero qua, dovrebbe essere già settato con tutte le cicliche, ah ma ce lo riguardiamo, vedete, qui, da, perché l'ho tutto devastata, sta roba, abbanaggia, vabbè, facciamolo al volo, così, facciamolo al volo, ehm, beh, era così, sì, circa, questo probabilmente va indietro, vabbè, facciamolo a manuale, così lo guardiamo, cerchiamo di non prenderci troppo tempo, e mettiamo anche come ciliegina sulla torta, questo qua, tutto ci mettiamo via, tutto, ecco, allora, vedete, allora, togliamone una alla volta, facciamo più in fretta di quello che ho fatto nel fine settimana, che lì è spiegato tutto bene, se prendiamo questo tipo di Forecast, vedete che è praticamente il Forecast del scorso trimestrale, e vediamo i movimenti, vedete che siamo in una potenziale barra di congestione ancora per un po', che tra l'altro potrebbe anche essere già iniziata da qui, quindi magari come tempistiche, in realtà, se prendiamo le tempistiche di questa barra di congestione, che sono 47 barre, 48 giorni, ma è già partita da qui, e ci siamo già verso la fine di questa barra, in realtà, però, eh, dettagli, fatto sta che può darsi che facciamo la stessa roba, ecco, tradotto, quindi, anche se adesso facciamo un centro di ripartenza, noi adesso, teoricamente, siamo allineati qui con centro di ripartenza, che era la stessa centro di ripartenza che c'era qua, centro, ripartenza, questa ripartenza non andò in all time I, in all time I la scorsa volta, ora, potrebbe andarci, eh, è sempre più difficile, ma oltre al fatto di andare in all time I o no, che quindi prendiamo, ad esempio, questo dell'inverso, vedete che può essere questo il top, come può essere ora la ripresa, ma poi si va giù, cioè, nel senso, sarà l'ultimo fake top, quello è il problema, e anche qui, vedete che qui abbiamo il centro, perfettamente allineato, ripresa, e poi giù, come era qui, perfettamente allineato, circa un centro, ripresa, due movimenti, poi giù, questo è il punto, anche se andiamo adesso a fare un nuovo top, dal mio punto di vista, potrebbe essere molto fake, però, al di là di fasciarsi la testa sul lungo periodo, il movimento potrebbe comunque essere, anche se non fa un altro top, molto carino lo stesso, perché magari, e ti ritorna, adesso prendiamo magari il nostro bitcoin normale, e anzi, prendiamo quello history così, è meno scarabocchiato, ovviamente l'ho già riperso, è ovvio, scriviamolo, bitcoin history, più o meno, visto che i volumi sono più o meno in linea, con tutti gli altri exchange, quindi si può anche fare un'analisi veloce qua, ecco, prendiamo qui, che poi i volumi ormai contano quelli del CME, la ciclica conta quello del CME, eccetera, e lo spot, proprio perché bitcoin ormai è istituzionalizzato, eccetera, è lo spot ormai, cioè uno lo guarda, ma è anche un po' più allineato quando fa il breve periodo, perché andare a vedere il breve periodo su CME, c'è meno volumi nel breve, più volumi nel lungo, mettiamola così, però non ha più valenza, anche quando ti vedi la gente e dici, andiamo a vedere l'inflow degli exchange, escono bitcoin, entrano, non serve più un cazzo quella roba là, zero, perché ormai bitcoin si è spostato come colosso della finanza tradizionale, bisogna guardare l'inflow degli ETF, eccetera, e si è anche scoperto che oltretutto certi siti statistiche, eccetera, mettono anche dei valori sballati, quindi bisogna vedere bene la situazione. Detto questo, chiaro che si arrivano in una valanga di volumi e vengono valorati da tutti sugli ETF e in altri paesi di maniche. Vabbè, detto questo, questa è la situazione al di là di tutto della ripartenza di centro. Se adesso noi qua ripartiamo, innanzitutto non è ancora confermata al 100%, perché potrebbe ancora farti l'ultimo scarico qua, adesso fa l'ultimo giornaliero che fa la finta e poi ti fa l'ultimo scarico. A quel punto, secondo me, ci siamo veramente giocati il tentativo di rivedere i 70% anche, per me. Invece qui, ovvio, perché il mercato è sempre così, non ti dà mai indicazioni certe, siamo in una situazione né carne né pesce, perché siamo finiti sotto i volumi, sì, però non siamo finiti sotto, diciamo, la conformazione tecnica, chiamiamola così, perché veramente questo è l'ultimo livello, tra virgolette, tecnico, prima dell'inefficienza, che poi perso questo, effettivamente andiamo nel POC precedente, perdiamo troppo terreno, eccetera. Rimanendo qui impigliati, non è cambiato molto, perché se poi adesso parte il trimestre all'inverso, in teoria una bella leg up te la fa, e facendoti una bella leg up, magari si rimette di nuovo sopra questi volumi, e allora, vabbè, come non fosse successo niente, mentre viceversa, se facciamo un ultimo scarico fino a qua, capite che poi fa sì la bella leg up, però ci si impianta da queste parti, e va giù, capite il senso della cosa. Quindi adesso siamo in una situazione né carne né pesce, potremmo ancora tentare il top, o una roba del genere, cioè andiamo di nuovo a fare un qualcosa del genere, se adesso parte da qui, da questo punto qui, quindi è partito il mezzo trimestrale, e ti fa, magari i due movimentini, potremmo assolutamente tentare proprio quello che ho fatto. Una roba così, che magari ritorniamo qua, ci riappoggiamo sui volumi, e facciamo di nuovo un altro tentativo, magari con spike, e poi si va giù. E questo comunque, al di là del fake top, fake non cosa, parliamo di un più 10%, che schifo non fa. Il punto è vedere cosa fanno le altcoin. Adesso, io sono allineato su questa view, ho già provato il mio long, come avete visto più o meno è anche già andato il primo target in break even, non stava andando bene, molto bene, la mia operatività su Bitcoin ultimamente, lo ammetto, perché era troppo laterale, troppe fees, quindi anche sul gruppo Telegram, poi farò un video specifico su come adesso adatteremo la situazione, magari a posteriori, perché adesso intanto che magari arriva a questo potenziale ripresa, potenziale top, magari ancora ce la svanghiamo. Per dare la conferma che allora veramente andiamo, guardate qui che bei punti di riferimento che abbiamo. Adesso qui uno ha preso un po' il top qua, anche come le situazioni di breve, però se ci incastriamo anche come ripartenza qui andiamo giù. Allora, primo, se andiamo qui andiamo giù, a me è par strano che sia partito un centro, perché un centro comunque fa una roba un po' più forte, quindi c'è qualcosa che non va. Magari è partito, magari non parte dopo, non lo so, serve strano. Quindi il punto è se adesso non andiamo neanche a rompere questo top qua, e magari ti fa un altro giornaliero in più ancora, ribassista, e allora a quel punto andiamo veramente qui. Andati qui non ce la facciamo più. Faremo magari un bel rally, ma non ce la facciamo più a fare il top. Però da qui possiamo ancora farcela. Vedete, tecnicamente, questo è l'ultimo punto dell'inefficienza quando è ripartito. E tecnicamente è l'ultimo punto che tiene ancora in piedi la struttura vera. Se fa uno scarico, se fa una roba e poi riparte, non se ci rimane una vita e poi scende, ovvio. Quindi ancora possiamo farcela. Il problema, ovviamente, invece è la Total, che l'abbiamo già vista. Prendiamo la Total, quella più carina, senza BNB e senza Solana e senza le stable, che dà proprio un'idea più, ovviamente senza Bitcoin e senza Ethereum, che dà un'idea un attimino più chiara del mercato. E non è forte, assolutamente no. Adesso, comunque, qui, se riparte un centro per Bitcoin, riparte un centro anche per la Total, probabilmente. Quindi, probabilmente, difendiamo questo livello che ormai si vede che è un livello molto importante. Questo livello qua lo difendiamo. Diciamo, vedete, da qui è partito il trimestrale. Qua si è chiuso il trimestrale. Adesso qui andiamo a fare il nostro centro, 48 giorni, siamo perfetti. E qui, dai, qui ripartiamo. Però capite che abbiamo perso talmente tanto terreno, che quello che mi posso aspettare, io, è una roba così. Basta. Poi, e poi si perde questo qua. Si perde, e poi probabilmente, magari, non andiamo in shakoneg diretto. Ma, anzi, non è detto, perché sapete, le alcohe sono un pochino lunatiche. Quindi, quando perdono i livelli gravi, poi, non è detto. C'è questo livello qui, è quasi quello che ha già tenuto per tenere la struttura. Anche se non è arrivato in questo punto qua. Quindi, io dubito che poi questa struttura tenga quando e se facciamo questo movimento. Cioè, anche se qui, vedete, non siamo arrivati in questo punto. Questo è un livello che è già stato, tra virgolette, lavorato. Quindi, c'è il rischio che, se adesso ripartiamo e facciamo così, e poi andiamo a perdere questo livello, facciamolo shakoneg diretto. Proprio. C'è il rischio. Poi bisogna vedere alcoin com'è messa. Però, generalmente, per me il rischio è questo. Se invece prendiamo, visto che le abbiamo tolte, prendiamo sta Solana. che io avevo già provato uno short, però ha tenuto anche appunto la struttura. E adesso anche lei magari è ripronta per una partenza di centro. Quindi non si fanno più short qua. Comunque un targhettino piccolo l'ho preso. Riproverò nella prossima mandata questo maledetto short. Qui anche, poi c'è questa situazione, che anche qui, cos'è? Questo è il top di trimestrale inverso. Oppure è quello che farà a breve. Molto probabilmente è quello che farà a breve, visto che questo non mi convince come top. Quindi probabilmente adesso fa la ripresa, magari va anche a sporcare questi livelli. Fa uno spike. Questo sarà il top di trimestrale inverso, in lower high. Chiuderà i giochi di questo trimestrale e partirà la fase ribassista. Anche qui, vedete che questo è il minimo del trimestrale scorso. Se fa un lower high, tutta questa struttura qua, il mercato gira male, secondo me non tiene. Però non facciamoci troppo la testa, perché per ora stiamo guardando al breve. Il breve, al breve io adesso non vado direttamente long a fare long sui altcoin, finché non ho conferme di bitcoin. Casomai mi perderò certi long. Si può provare qualche long sparso, però deve essere roba di breve. Cioè nel senso che, prendiamo l'esempio Solana, bitcoin ti dà il segno di ripartenza, quindi potrei anche mettermi un alert del il re ci ha segnato la via. Lasci che il re e i pargo li vengono a me, che cazzo sto dicendo? Il re ci segna la via. Come ci fa a segnare la via? Metto già un alert. Il re ci segna la via andando qua sopra. Andando qua sopra, va al day-hack, poi qui c'è confusione, magari si impianterà un po', eccetera. Però ci dà già un segno, che qui è partito sicuramente un settimanale. Parto un settimanale adesso è molto probabilmente partito un mezzo trimestrale. Meno che non faccia il movimento da 5. Il movimento da 5 sarebbe un disastro, perché cosa fa? Fa un centro all'ora più lungo, e allora torna veramente qua, e poi un macello. Vabbè, non credo. Insomma, sembra mai impostato su movimenti classici. In più abbiamo anche la confluenza con un Nasdaq ancora forte, che ci fa da luce riflessa, vedete. E quindi è difficile che il mercato crolli adesso. Ecco, questo è il senso. Il mercato tiene, anche Bitcoin tiene, anche se magari siamo già da tempo in un'influenza negativa in cui dovrebbe scendere, ma il mercato tiene perché il Nasdaq è messo così, capite? Ecco. E tra l'altro vi ricordo, che succederà la stessa roba, che vi dico anche da tempo, che il Nasdaq farà il top dopo e Bitcoin se ne darà il top prima. E quindi molto probabilmente anche l'ha già fatto il top. Però è un double top assolutamente nelle corde per anche rompere i coglioni, perché chi magari non segue questa ciclica, eccetera, non è sul pezzo, ma vede solo l'analisi tecnica, cos'è che dirà quando e se Bitcoin adesso da qui riprende va ipotesi a 75, 84, 75, fa una spizzicata a 75 ipotesi. Basta, to the moon, 100k soon, plan B, puttanate. No, invece purtroppo se lo fa è proprio la vigliacata per me, la vigliacata che poi fa crollare tutto, prende un bel po' di distrugge tutti i short, prende lo spike e poi va giù, pesante. Sarebbe veramente una vigliacata, anzi sarebbe proprio ancora peggio, molto peggio, perché facendo quella mossa lì darebbe veramente tanta forza poi ai bear per attaccare, cioè sarebbe proprio la classica manipolazione, chiamiamola così. Però per adesso, senza appunto farsiarsi la testa, se non c'è un Bitcoin update lunedì, tutta la ciclica di lunga l'abbiamo già vista, adesso qui, il lunghetto ci sta, il primo target più o meno è preso, vedete il primo target, guardando anche solo un 4 ore, vedete il retest dal basso, perché magari può ancora far così, ovviamente. Però il target principale, diciamo, intanto è questo, qui comunque non penso che passi subito, questo è il target principale, anche se ho già messo il terzo target per vedere se va tutto il moon, perché qui comunque anche se ci arriva poi farà fatica, e magari ti fa il centro del settimanale e poi riprova, bisogna vedere quanto forte è. E poi qui potrebbe, da queste parti comunque, ad esempio in questo punto qua, potrebbe già chiudere qui, e neanche deve fare forza un mezzo trimestrale che va di nuovo ai top. Però vedete qui, abbiamo tre punti, prendiamo dal CME, che i volumi sono un pochino più attendibili, però mettiamo un breve periodo, perché se va, è troppo lungo, poi ci sono una marea di scarabocchi, che è meglio, serve meglio fare anche un po' di pulizia, però vabbè. Dal CME vedete che questo è il punto chiave, perché infatti vedete, avete visto sullo spot, che qui dava un volume molto forte, però guardate, nei fatti non è che sia poi chissà che qua. E in più qui, da CME è proprio il punto, in corrispondenza in cui dà l'inversione, l'inversione di ripartezza, quindi questo se lo brucia, questa è la sostanza. Da CME questo, e questo, se adesso fa la ripartezza di centro, questo livello se lo brucia. Questo sarà il punto principale, che è la zona dei 70k psicologici. Questa è. E poi bisogna vedere qui come lo affronta, perché poi in effetti, allora vediamo meglio tutti i volumi di tutto, così ci capiamo. Anche da CME ci capiamo. E sì, vabbè, questo se lo deve bruciare, se li parte, ovvio. Quindi questo non è rilevante, siamo ancora lì in zona, poi. Non è rilevante. Se lo dovrebbe bruciare subito. Questi due punti qua, poi, sono i nostri scogli. Se li brucia in maniera devastante così, allora fa il top. Se fa tanta fatica a ogni livello, poi il tempo passa ed scade, e non ce la fa più. Questa è la sostanza. Se vogliamo vedere ultimi volumi dell'ebit, che anche questo, appunto, ha un sacco di volumi istituzionali ed è bene da guardare, e poi basta. Perché tanto abbiamo detto, abbiamo fatto un video di oltre un'ora questo fine settimana, che io consiglio vivamente di andarlo a vedere. Poi guardiamo i volumi dell'ebit, e vedete l'ebit come è messo. L'ebit, questo, se si fa la ripartenza di centro di nuovo, è uguale, praticamente. Questo se lo deve comunque bruciare, se fa la ripartenza di centro da qua. E il punto è questo. Noi stiamo dando per scontato che stia ripartendo adesso dal centro. Ma se mi fa un altro giornaliero ribassista, e va anche a chiudere questo gap che c'è anche qua, eccetera, capite che perde tutto. Perde tutto, ecco. Questo è il senso. Però sono abbastanza ragionevolmente ottimista che andiamo a farlo. Adesso a ripartenza di centro, vi faccio vedere anche perché, dai. Perché quindi questo se lo deve bruciare. E qui sarà la chiave, praticamente. Tu, così. Oppure tu, così. Però anche un top sarebbe pericolosissimo dal mio punto di vista. Poi quando vai in all time high puoi anche fare un rally che non ti aspetti. Però poi comunque è pericoloso. Allora, perché poi tra l'altro mi aspetto che a maggior ragione ormai ci siamo. Dai, vi faccio vedere sul 5 minuti l'analisi della ciclica che ho già fatto. Siamo veramente oltre. Siamo all'ultimo proprio. Quindi, insomma, se adesso fa un altro ribasso sarebbe molto strano. Via. Pottiamoli tutti così. A buffo. Ecco. Qui c'era la partenza dello scorso settimanale. Vedete, siamo già molto oltre. Il minimo è qua. È già fatto. Qui sembra un doppio minimo. Se invece prendiamo l'inverso, se magari si carica, perché ormai ti testerò insieme e poi fanno tutti in panico. L'inverso è completamente messo a cazzo. Non so perché. Ci fa qualcosa che non va. L'inverso non è allineato. Ormai ho tirato fuori. Allineamolo. Questo è sicuramente il top dell'inverso scorso. 1790. Aspetta, facciamo così. Siamo a cielo. Ecco. 1190. Non è che devono essere precisi alla candela. Perché tanto poi il mercato non è preciso alla candela. È solo una traccia. Però, se dopo la traccia inizia ad essere tanto oltre, capite che allora ci siamo. Ecco. Qui, vedete, il tempo del del settimanale si è già concluso da un po'. E siamo proprio all'ultima parte in cui può ripartire. Tempi medi sono. Tempo del top anche, che qui ha fatto anche il rimbalzo e poi l'ultimo giù. Qui possiamo ancora chiudere. E poi anche, se uno va a vedere anche quest'altro tipo di forecast se però non metto più in evidenza. Vabbè, torniamolo una volta. Allora, facciamolo così. No, fate casino. Tempo del settimanale indice normale è quello che si guarda di più. Sostanzialmente è proprio scaduto, vedete. Cioè, nel senso, vabbè, qui c'è. Non è che deve fare il minimo qua, cazzo è, il Nostradamus. Però, questa è una zona di minimo. E qui, siamo nell'ultima parte della zona di minimo. Quindi, dovremmo esserci. ecco. L'inverso, anzi no, vabbè, questo, l'altro tipo di forecast, vedete che da qui prende, fa un minimo, doppio minimo, da qui e parte, e poi va su. Si capisce di più se da qui parte e va su. Quindi, siamo già in una situazione in cui dovrebbe partire. Prendiamo, poi, l'inverso, eccolo qua, l'inverso, qui, anche lui, praticamente, è il punto in cui, che praticamente, parlava sostanzialmente, fatto prima, fatto un mega pump, prima, vabbè, perché c'erano i dati, robe, capite, poi c'è il mercato reale. Questa cosa qua, magari, sarebbe stata un po' trasposta qua, l'ultimo pump. però fatto sta che anche qui è tutta una zona in cui poi sta facendo una sorta di minimo, anche in prospettiva dell'inverso, ormai, anche qui ci siamo. Quindi qui, ormai, visto che è andata così, chiude il giornaliero e parte, non dovrebbe fare un altro giornaliero di bassista. Questa è la zuppa. Se fa l'ultimo giornaliero e parte, molto probabilmente, adesso con questa candela qua, ci sta dando di idea che questo giornaliero è appena partito. e quindi, ormai, siamo talmente avanti che è difficile che ci sia un altro giornaliero ancora, capite? No. Ancora un altro giornaliero di bassista. Siamo già tanto oltre. L'unico problema è che, chiaramente, qui c'è questo ultimo giornaliero inverso che poi bisogna anche capire che se fa il pump ti fa un'altra linguetta di Bayer merdosa, così. Quello è il problema. Poi, anche qui, sulla questione dei giornalieri inversi c'è un po' di casino. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Non lo so, è un po' complicato anche qui perché anche qui dovremmo essere già molto oltre. Qui, in effetti, come tempistiche di tempo puro siamo comunque a cinque giorni perché probabilmente qua ci sono stati fin di settimana. E quindi, che sia in un modo o nell'altro, anche questo inverso deve ripartire in qualche modo, no? dovrà partire in qualche modo. Quindi, quello che mi dovrei aspettare non è solo un rimbalzino qua, dovrebbe tra oggi e qualche ora, cioè, neanche tipo tra oggi e domani, tra oggi e qualche ora fare già un candelotto così e trovarsi qua su, sostanzialmente. vediamo, perché ormai come tempi ci siamo, questo è, siamo anche oltre, comunque ci siamo, siamo oltre, ecco. Va bene, penso che abbiamo detto tutto quello che serve, diamo un'ultima occhiata anche a Ethereum stesso, Ethereum è messo strano, piscina sega, però vedete, Ethereum già, già un minimo e già ha un lower high, no, ha già, sta già dando idea di ripartenza, Ethereum, ha quasi più evidenza di ripartenza, vedete, va la trend qua, ha già rotto la trend, bene, retest e via, Ethereum già ha messo in modalità ripartenza, però Ethereum è tutta una congestione, non so cosa farà, non credo che ce la faccia ad andare molto oltre, anzi probabilmente arriva, vedete, dove ho messo i target, ma non penso proprio che vada a rompere e a rialzo, Ethereum, però vabbè, poi uno ci prova ed è dentro, se ti fa questa nuova sorpresa te la prendi, intanto vedete il Nasdaq è a 19,9, e mi ha già preso i target, cioè questo adesso va ai 20k psicologici, come al solito i target a 19,9, 9,5, robe così, perché poi quando arriva la 20k psicologici c'è il rischio di sciacquoncello, però è fortissimo, cioè, in un Nasdaq così non è difficile che il Bitcoin ti crolli se il Nasdaq è così, cioè, che poi magari non ti facciano i massimi perché è in una fase di debolezza, ok, perché poi siamo, l'ho già detto, gli top degli indici li fanno dopo, già da sempre, già dal 2021, Bitcoin faceva il top a novembre, gli indici dicembre, gennaio, eccetera, quindi va bene, stanno facendo i loro top e Bitcoin magari l'ha già fatto, ecco, però, guardate che roba, vanno su come un ascensore, vabbè, per questo video è tutto, conto noi appunto questi trade che sono dentro, stanno andando benissimo e ci sentiamo alla prossima, ciao, Uzz!